Il perdurare del gran caldo e delle scarse precipitazioni prolungherà l'emergenza idrica in tutta la regione. L'ACA anche nelle prossime settimane sarà costretta ad interrompere l'erogazione idrica nelle ore serali. Rubinetti chiusi dalle ore 21 alle 6 del giorno dopo in gran parte dei comuni del comprensorio. Per alleviare la situazione, una soluzione potrebbe essere quella di aumentare di almeno 500 litri la capienza dei serbatoi nelle abitazioni private, ha sottolineato l'ingegner Lorenzo Livello, direttore tecnico dell'ACA. Sì, attualmente abbiamo 44 comuni in chiusura tra pomeridiana e notturna. Chiaramente mancano all'appello circa 350 litri al secondo. Noi ne distribuiamo dalle sorgenti 3.000 attualmente. Per una situazione di normalità dovremmo dare 3.400-3.500 litri al secondo nei momenti di punta che è stato il periodo di ferragosto chiaramente. Adesso stanno scendendo man mano i consumi e andremo verso il periodo latunnale dove speriamo che arrivino le piogge che aiuteranno sia a ridurre i consumi ma anche e soprattutto a incrementare la portata delle sorgenti, soprattutto quelle superficiali, quella principale, quella del Tavo che è molto sofferente. La previsione. Oggi facciamo un confronto con quello che è successo nel 2021. L'emergenza del 2021 l'abbiamo risolta più o meno a novembre. Noi contiamo di arrivare più o meno a quel mese lì salvo avverse condizioni meteorologiche che ci possono dare una mano e anticipare il termine della crisi. Man mano che i turisti lasceranno la nostra regione la situazione potrà migliorare in qualche modo almeno sulla fascia costiera e quindi dare respiro ai comuni dell'entroterra? Già è avvenuto questo fine settimana. Silvi abbiamo ridotto molto la portata in adduzione, in distribuzione e la stiamo rispalmiando tra Pescara Chieti e Montesilvano. E quindi è tutto un gioco di equilibri idrici che non è facile e non è repentino. Sono manovre delicate che ci vogliono anche giorni, certe volte, per fare in modo che si assestire la distribuzione in rete. Ingegnere, si pagano scelte non fatte, lavori non fatti negli ultimi 40-50 anni? Diciamo che noi abbiamo preso in gestione come azienda H, abbiamo cominciato dal 2000, i primi del 2000, l'ultimo comune che abbiamo preso in gestione è Chieti nel 2017. È chiaro che abbiamo preso in eredità delle reti che hanno la loro età, da 50-60 anni. Ingegnere, note positive, la bandiera blu a Pescara è un segnale che si sta operando verso la strada giusta? Sì, l'H non fa solo rete idrica, fa anche rete fognarie e depurazione. Sono anni che stiamo facendo interventi sulle reti fognarie e depurazione. Attualmente il cantiere più grosso sta al depuratore di Pescara, stiamo potenziando la capacità depurativa del depuratore e i risultati si sono visti. Con la ballenazione di Pescara è stato un premio che è stata la conseguenza di tutte le attività che abbiamo fatto, sia sulle fogne che sui depuratori.